Sì, per fortuna. Per fortuna sì, loro hanno capito i nostri punti deboli e ci hanno messo un po' in difficoltà nel secondo set, poi per fortuna siamo riusciti ad adattarci ai loro attacchi corti e anche ai loro servizi abbastanza corti. Oggi la squadra veniva un po' da una settimana di allenamenti poco fruttuosi perché abbiamo avuto diverse defezioni, Monaco, Raddato, Mennuni per una brutta otite che non sappiamo quando lo recupereremo, speriamo questa settimana. E quindi la squadra ha dovuto un po' adattarsi al nuovo sestetto, però voglio dire il primo set quando c'eravamo fisicamente siamo andati benissimo, poi c'è stato un piccolo calo. Forse un po' di troppa convinzione che la partita fosse già vinta e invece come ben sappiamo non possiamo mollare contro nessuno. Si vede anche questo campionato un po' incerto, abbiamo visto i risultati di ieri che il Matera ultimo in classifica è riuscito a strappare un 3-2 contro il Noicattolo secondo, quindi non possiamo mai abbassare la guardia. Speriamo di continuare così nelle ultime due trasferte che sono fuori casa contro due squadre di bassa classifica ma che non possiamo sottovalutare assolutamente. Nonostante appunto una panchina corta oggi è stato forse il grande carattere e l'esperienza dei ragazzi in campo a determinare la vittoria. Una vittoria importante che vi isola al terzo posto, il Torre Maggiore ha perso che era in corsa ancora per gli ultimi posti, si può dire che avete blindato la posizione playoff? Sicuramente, forse è già matematico la quinta posizione, ma io mi auguro a questo punto di non arrivare quinti. Adesso dobbiamo cercare di arrivare secondi o terzi in modo tale da poter fare poi le due partite dei playoff, la seconda con l'eventuale golden set in casa e quindi avere questo vantaggio. Speriamo che vada così. Grazie Roberto e complimenti. Grazie.